Sono partite da qualche giorno a Brindisi le procedure di gara per la realizzazione di 22 nuove residenze di edilizia popolare con tecnologie ultramoderne e sostenibili nell'area dell'ex Parco Bove nel rione Paradiso. Per questo altre 22 famiglie in condizioni di fragilità ritroveranno serenità grazie ad una nuova abitazione. L'area di Parco Bove, evidenziano dall'amministrazione comunale, dopo decenni di incurie e degrado, sta rifiorendo e con queste opere di riqualificazione e rigenerazione, con l'abbattimento delle baracche e la realizzazione di aree verdi diventerà più vivibile e green. Credo che sia un messaggio molto importante. 22 nuovi alloggi insieme ai 70 del rione di Perrino sono un segnale forte per quanti purtroppo vivono un movimento di fragilità perché non hanno una casa. Al Perrino chi vive in alloggi che sono fatiscenti avrà una nuova casa. Qui si continuerà a scorrere la famosa gradatoria dopo tanti anni. Finalmente il Comune con questa amministrazione comunale si è dotato di una gradatoria e 22 famiglie possono avere un tetto sulla testa. E una svolta storica per Brigni si rimarcano dall'amministrazione comunale per la riqualificazione di questo quartiere. Il quartiere Paradiso è così dopo l'ormai famoso abbattimento, dopo anni e anni di degrado delle baracche di Parco Bove. In quest'area alle nostre spalle nasceranno ancora altri alloggi popolari. Credo che anche su Rione Paradiso l'amministrazione comunale abbia fatto tantissimo. Tutta quest'area, Largo Poliziano, quindi Parco Bove, verrà interamente riqualificata poiché si intreccia anche un altro progetto, dello shuttle. Verrà ultimata e definita la pista ciclabile, quindi sarà un quartiere servito anche con mobilità sostenibile, mobilità lenta e con pista ciclabile.